4 sinistra lunga, apre 50. Buona fortuna. 5, 4, 3, 2, 1, via! Tieni la sinistra su 30, 3 destra. 4 sinistra lunga, apre 50. Tieni la sinistra su crinale, 30. 6 destra lunga, rallenta 30. Tornante aperto, non visto sinistra. 100. Tieni la sinistra su crinale, in 5 destra lunga. Rallenta, tieni la sinistra su 50. Tornante aperto, non visto destra. In 5 sinistra molto lunga. In 6 destra. Apre su crinale lunga, attenzione, stringe 4. 5 sinistra, 50. Tieni la destra, in 2 sinistra. In 3 destra. In 3 sinistra lunga. In 3 destra lunga, stringe 2 lunga. E 4 sinistra molto lunga. Apre su crinale. Stringe 3 lunga, stringe. 50. 3 destra lunga, stringe. In 2 sinistra lunga. In 4 destra. In 4 sinistra. E attenzione, 3 destra lunga, stringe. In 4 sinistra, apre 30. In 4 sinistra lunga. Apre, stringe. Tornante aperto, sinistra, stringe. In 4 sinistra lunga, stringe. In 4 sinistra. E tieni la destra su crinale, 50. 5 sinistra lunga, stringe attraverso tunnel, 50. 3 destra lunga, apre 50 su crinale. In 5 sinistra lunga, stringe. In 4 destra, 4 sinistra molto lunga. Tieni la destra su 50. 3 sinistra molto lunga. In 4 destra lunga, stringe. In 3 lunga, apre lunga, stringe. 80. Tieni la destra su crinale. In 5 sinistra lunga, stringe. 80. Attenzione, 3 sinistra lunga, stringe. In 4 destra molto lunga, 80. 2 sinistra lunga, stringe. In 3 destra lunga, apre 50. 4 destra lunga su traguardo. Tieni la sinistra su 30. A Grazie a tutti. Grazie a tutti.